Un saluto a tutti qui dal GoPippo, vi ricordate quel video dove mostravo come ascoltare youtube a schermo spento? Ebbene, oggi faremo una cosa simile ma utilizzando un sistema ancora più semplice perché non bisogna andare a smanettare chissà cosa venite con me che vi faccio vedere subito, in pochi minuti faremo tutto Ah, mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate e accendete la campanella molto importante per ricevere una notifica che è uscito un mio video, niente di più e aiuterete l'algoritmo di youtube a far crescere questo canale quindi venite con me che vi faccio vedere Allora, come prima cosa dovete andare su google utilizzando il vostro sistema quindi cliccate su google, attivate una nuova scheda e andate a cercare youtube quindi andate a cercare youtube e lo scrivete e cliccate l'ok dopo aver cliccato ok, non andate a cliccare il primo cercate dove scrive youtube app installata voi non dovete cliccare, dovete tenere premuto e aprirà una finestra aprendo questa finestra troverete anteprima pagina cliccate su anteprima pagina vi aprirà questa schermata ok, qua andate a cercare la vostra musica quindi scriviamo adesso una musica con no copyright no copyright, clicchiamo ci apparirà questo per il momento date ok, riproduciamo con le tue recensioni stellari e i nostri prezzi qua ci saranno sicuramente gli annunci quindi dovete semplicemente andare avanti ok, dopo che sarà partita la musica la ascoltate, vedete, sentite che ascoltate la musica spegnete il vostro telefono e semplicemente potrete ascoltare alzando il volume riabbassando se volete navigare sul vostro telefono basta uscire e semplicemente lo potrete ascoltare navigare nel vostro smartphone e se volete ritornare lì cliccate su google e potete continuare con la vostra ricerca delle vostre musiche quindi niente di più semplice perché così possiamo ascoltare la nostra musica utilizzando la tecnologia a nostro favore quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto anzi facciamo così iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e commentate mi raccomando datemi dei consigli se volete vedere qualcosa di diverso se volete anche ricevere una recensione o un test di qualche cosa in particolare io sarò lieto di aiutarvi quindi mi raccomando rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao